Una giornata regionale tutta dedicata a loro come riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio sempre dimostrati anche e soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. È la giornata degli alpini che si svolgerà ogni anno il 2 aprile, istituita con un progetto di legge per promuovere le numerose attività di volontariato, di aiuto e supporto che da sempre caratterizzano l'operato delle penne nere. Vogliamo provare a trasmettere i valori di questo corpo, i valori dimostrati in mille occasioni, l'ultimo ovviamente è quella dell'emergenza sanitaria, i valori dell'amicizia, il valore dello stare insieme, i valori di non lasciare nessuno indietro, i valori del prendere per mano, dell'aiutare. Questi sono valori straordinari che il corpo degli alpini ha sempre dimostrato e ha sempre in qualche modo trasmesso, tant'è che sono amati da tutti. Abbiamo scelto il 2 aprile come giorno per celebrare la giornata lombarda perché in quel giorno si è aperto l'ospedale da campo a Bergamo. Anche in questa occasione gli alpini si sono dimostrati straordinari e hanno dimostrato quali sono i valori di solidarietà e di appartenenza un territorio. Vogliamo riconoscere il merito, il lavoro, la solidarietà e il tempo che hanno messo in esposizione della nostra comunità e possiamo farlo dedicando una giornata a chi ha dedicato tante giornate in modo gratuito alle nostre comunità, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità e difficoltà.